Buonasera a tutti e ben ritrovati da Ludi Zlatan, benvenuti amici sportivi nel nostro appuntamento fisso con SkySport24. Partiamo subito con il calcio perché in Premier League sono usciti proprio oggi i calendari della stagione 2017-2018 che noi andiamo a vedere nello specifico, seguendo naturalmente il Leicester di Federico Marconi. Federico che è partito molto bene nella prima stagione, ha conquistato il quinto posto come avete visto, ha vinto anche l'FA Cup e proprio per questo vi ricordo l'appuntamento di Community Shield proprio contro il Tottenham che si è laureata campione d'Inghilterra nella scorsa stagione. Ma adesso passiamo comunque, rimanendo sempre l'Inghilterra, dalla Premier alla Championship perché altri due allenatori italiani si sono uniti ai tanti che sono migrati verso le sponde britanniche. Infatti Home e Menzo che rispettivamente erano stati allenatori del Milan e dell'Inter nella scorsa stagione si stanno muovendo e quindi andiamo a sentire un approfondimento con il servizio del nostro Felice Mastronzo. Sì grazie, grazie per l'arena Rudy, non so esattamente dove sono, penso in uno sgabuzzino dell'aeroporto di Itrow dove tra pochi minuti atterrerà il volo di Menzo e Dom qui in terra inglese che fino a qui hanno vingiato assieme ma che come sappiamo, Home dopo una stagione eccezionale sulla panchia del Milan dovrà andare a allenare il Nottingham Forest mentre per il suo compagno Menzo, dopo l'eccellente carriera che ha fatto con l'Inter dovrà andare in quelli di Newcastle. Il loro obiettivo è quello di portare le sue due squadre nel massimo campionato, nella massima divisione inglese dove poi potranno incontrare addirittura il loro amico nonché connazionale Federico Marconi nella panchina del Leicester. Quindi da Felice Mastronzo nello sgabuzzino di Itrow è tutto, attendiamo che i due allenatori arrivino a voi studio. Ringraziamo Felice Mastronzo per il suo servizio e ragazzi a questo punto avete capito che sta partendo davvero stanno partendo dei progetti molto molto interessanti, quindi mi raccomando andate a vedere i video di Home e di Menzo trovate qui sotto i link in descrizione e io mi raccomando anche a voi di passare domani alle 14 perché ci sarà il calciomercato dei Leicester sta partendo questa nuova stagione, mi raccomando ragazzi passate dai link perché sono delle carriere molto molto particolari e molto molto appassionanti. Un abbraccio da qui da SkySport24 è tutto, da Rudy Slatan, buonasera. Non mi piace come è fiuso però, sti cazzi fe!